Sulla stessa linea anche il Movimento 5 Stelle. Dopo anni di austerità finalmente gli italiani potranno contare su misure che puntano alla giustizia sociale. Pensioni minime a 780 euro, reddito di cittadinanza e superamento della Fornero. Nella manovra ci sono tante altre misure per riportare i cittadini al centro delle politiche di questo paese. Di Maio intanto indica le priorità per il nuovo anno a partire da quel cambiamento che il Ministro del Lavoro intende portare anche a Bruxelles. Il manifesto per una nuova Europa lontana sia da destra sia da sinistra.